buongiorno sono silvia sono un estetista lavoro al beauty planet centro di magrimento ed estetica io mi occupo principalmente di estetica di base quali pedicure manicure cerette trattamenti viso e corpo sia in manualità che con macchinari macchinari utilizziamo l'ultrasuono per quanto riguarda anche il corpo e radiofrequenza corpo e viso allora a livello di manualità usiamo anche delle tecniche con delle attrezze di legno tipo questo è un rullo dove ha dei quadratini diciamo dove io vado a rullare sul non so ad esempio il gluteo mi aiuta nella stimolazione sanguigna e anche riportare su bene a lavorare sul muscolo quindi portare il gluteo in alto vi aspettiamo per provare il rullo gli altri trattamenti non solo per ragioni estetiche ma anche per un buon relax